Oggi, come Maria, magnifichiamo le grandi opere che Dio compie ogni giorno nella nostra vita e cantiamo con gioia la sua grande misericordia. Grazie Signore per avermi creato, per guidare la mia vita con la potenza della Tua grazia. Grazie perché mi sei accanto anche quando non riesco a sentire la Tua presenza vicino a me. Signore, Ti glorifico perché hai mandato il Tuo unico Figlio per salvarmi dalla morte eterna. Questo è il più grande dono che un padre può fare ad un figlio, la vita. Di quali pesi devi liberarti per ringraziare Dio? Vivi questa giornata con spirito di riconoscenza per tutte le situazioni che dovrai affrontare.